ciao a tutti e bentornati in questo pregiatissimo canale allora la live aperta nel canale del bombonsito ha generato non poche polemiche vuoi il comportamento dei due coniugi milanesi vuoi che il dennis le abbia lasciati fare tutto lo schifo che hanno voluto fatto sta che il trio ha iniziato ad avere qualche problemino una prima spia d'allarme è stato proprio un post scritto da chiara nella sua community dove dice che avete da guardare siete tutti una manica di coglioni sapete perché perché non avete le palle di stare dove vorreste stare voi avete bisogno di gente come me vi serve la gente come me così potete puntare il vostro dito del cazzo e dire quella è una persona cattiva beh e dopo come vi sentite buoni voi non siete buoni sapete solo nascondervi solo dire bugie io non ho questo problema oddio insomma io dico sempre la verità anche quando dico le bugie coraggio augurate le peggio cose alla cattiva che è l'ultima volta che la vedete una cattiva come me nella vita contano solamente due cose le palle e la mia parola e io le ho entrambe nel senso che le sue parole sono tutte palle l'unica cosa bella della mia vita è mio marito davide norimberti con tanto di tag e cuoricino e non vi permetto di dire niente di lui toccate me falliti se ce la fate e poi ha scritto una parola che va un attimo decriptata allora vedete vedetevela perché ha usato il tre al posto della e cioè non ho capito perché vedetevela non è offensivo quindi vedetevela con me che vi schiaccio tutti come scarafaggi un post decisamente provocatorio che ha riscosso tantissime critiche però c'è da dire che anche in questa occasione non manca il sostegno della sua cerina che scrive grande bimba basta offendere davide chiara sei unica commento a cui risponde un utente di nome larin 40 29 e dice e meno male poi abbiamo il medico della mutua che si becca ben 302 like e scrive la live di ieri sparita ovviamente avete dimostrato ancora una volta che non siete in grado di rapportarvi da persone civili mi fate pena veramente a questo votatissimo commento risponde la leggenda in persona dicendo medico della mutua è stata privatizzata per delle espressioni colorite ma non mi rimangio niente io almeno dico in faccia ciò che penso e non ho cattiveria o manipolazione peggio è chi usa ogni escamotage per diffamare un'intera famiglia la sua sessione si spinge avanti da anni i suoi amici mi hanno augurato di morire gente che vuole fare plin plin sulle tombe certo quello è bello mandate tutti da uno bravo data la presenza della leggenda nei commenti qualche utente ne approfitta per chiedere come mai sono stati disattivati i commenti nel canale di dennis e lei risponde stizzita scrivendo chiedilo a dennis non sono la sua balia e lo stesso utente le chiede e allora tu perché stai cancellando tutti i commenti che ti danno contro e lei dice ma non sono commenti negativi contro di me sono veri e propri insulti allora qui urge aprire una piccola parentesi perché secondo chiara quello che lei davide luciana hanno detto contro faith e sua madre sono delle espressioni colorite invece quando degli utenti scrivono il loro disappunto per questo comportamento incivile che hanno da anni sia lei che davide beh quelli sono ritenuti degli insulti beh a questo punto io sarei curiosa di sapere cosa ne pensa di quando davide apre il suo blog dicendo ciao a tutti vc dando di cesso quindi a tutta l'utenza quello che è un complimento sempre sotto questo post capita anche qualcosa di estremamente divertente perché c'è un primo commento del dottor dissing che salutiamo che scrive prossima vacanza colombia e il fiorellino milanese risponde dottor dissing perché quale sarebbe il problema a parte che non sarebbe nemmeno la colombia ma ti ricordo che toni arrivava dalla colombia ma è andato in america quindi è lì che andrò pure io e mi prenderò tutto il mondo con quello che c'è dentro ecco c'è un dottore in sala dottore abbiamo bisogno di lei poi riferito al viaggio in america miss ludovica risponde ma in treno ora dato che lei faceva tanto la saputella col dottor dissing arriva l'avvocato del diavolo che la rimette a posto suo non per polemizzare ma toni montana arriva da cuba e va in bolivia dove incontra sosa la colombia non c'entra almeno non sbagliare tappe nel scarface tour e che figura di merda rino un altro utente le scrive comunque se chiara sfrutta dennis il restivo fa solo bene chi si ricorda come diceva vanna marchi nazionale a proposito dei coglioni e comunque su una cosa ha ragione molte persone campano sul tubo con il suo nome è un dato di fatto e anche a questo commento il fiorellino milanese decide di rispondere in prima persona col suo canale ufficiale dicendo rino io non sfrutto proprio nessuno non è proprio nella mia indole il concetto di sfruttare il prossimo mi sento come se fossi alla sagra della cazzata sempre in merito a questo post un'altra nota dolente è rappresentata dal fatto che lei ha descritto davide come la cosa più bella della sua vita eclissando completamente sharon sua figlia ma immagino che il post sia stato scritto di getto e forse per tamponare qualche piccola bega familiare perché dopo il riavvicinamento di chiara e dennis cioè il molestatore che aveva spalmato il solurido clarinetto sulle sue nobili ciappette in tanti si erano meravigliati del benestare di davide etichettandolo come un corno munito ora diciamola in maniera spiccia in tanti si erano meravigliati di questo riavvicinamento e soprattutto del fatto che a davide stava bene la cosa perché perché lui in quanto marito di chiara doveva imporsi nella situazione e dire no questa persona che ha violato le tue ciappette amico tuo non ci ritorna pure perché magari andiamo in vacanza insieme e non solo potrebbe riviolare le tue ciappette ma potrebbe attentare anche alle mie ma sappiamo anche molto bene che davide ha un indole molto malleabile si lascia guidare controllare obbligare molto facilmente chiara è la sua musa no è la sua padrona un'altra cosa antipatica del canale dichiara sono questi suoi vlog flash dove inizia fastidiosamente con i suoi benvenuti in questo nuovo vlog ora io non lo so dove l'abbia copiata sta roba ma fa cagare quindi a parte il raccapricciante saluto iniziale sono dei vlog fatti di nulla dai titoli provocatori tipo state rosicando male non imparerete mai siete dei mostri e via dicendo questo ha conferma che è lei stessa che cerca il modo di generare antipatia nei suoi confronti e sulle conseguenti polemiche ci monetizza so di non dire una grande novità ma più che altro il mio messaggio è diretto a quei pochi che ancora la difendono chiedendo di lasciarla in pace perché lei è solo una vittima no a tutti gli effetti non è così perché proprio come ha sempre sostenuto critiche costruttive la nostra leggenda quando si vede messa in ombra da altri personaggi quali ad esempio come fu per senza anima ai tempi della raccolta fondi allora in quel momento si inventa un qualcosa per tornare alla ribalta questo perché perché sa benissimo che solo con i suoi contenuti farebbe pochissima strada e a proposito di contenuti mi hanno raccontato due episodi molto divertenti del loro vlog che devo assolutamente recuperare e condividere con voi il primo riguarda un vlog fatto da davide il quale era per strada e mentre era intento a registrare questo suo merdavidioso vlog c'è un tizio alle se spalle che passa nota il fatto che lui sta registrando questo video e coglie l'occasione per per grattarsi le parti intime giusto per dare un po' di brio a quello che era il vlog in corso di davide l'altro episodio invece riguarda un vlog dove i due coniugi sono andati a far visita ai suoi cerini dove chiara si vanta con la sua cerina della sua abbronzatura ad un certo punto c'è davide che interviene dicendo vabbè ma lei mica va al mare cioè è ovvio che è bianca come per dire ma che cazzo di paragoni fai o lei gli ha tirato un'occhiata che se poteva fulminarlo in quell'istante l'avrebbe fatto poverino chissà poi quando è tornata a casa bene detto questo io adesso vi saluto vi auguro buona continuazione di giornata vi invito a seguire quello che sarà il mio prossimo riassuntone ma nel frattempo che succede tutto questo un bacio a tutti da gossip ps e non state sempre costimosi lunghi pigliatela più easy